castello roganzuolo san fior nel territorio trevigiano si aspettava da tempo un evento importante che vede il meglio d'italia delle ruote nel fango per il campionato italiano di ciclocross giovanile 2023 per la prima volta nella storia la rassegna tricolore si sdoppia con le categorie giovanili in una corsa tutta per loro e c'è colle castellire oggi protagonista come non mai dove sorge l'antica chiesa monumentale abbiamo visto anche i pregiati affreschi di francesco da bilano il politico del tiziano e c'è la torre campanare del 1200 che sovrasta ed è pronta a rintoccare le partenze per i master la loro prima prova eccoci qua lo start dato in questo momento per i master di fascia 1 marco del mister della banditziol cycling team il campione italiano di ostia antica che subito prende la testa e poi prendono il via in questo istante lo start dato per quanto riguarda i master fascia 2 qui appunto vediamo con gianni zanetti nelle prime posizioni poi c'è vittorio carrer il pugliese in maglia tricolore master di fascia 3 invece per quanto riguarda il tricolore qui è quello di giuseppe dal grande della 05 bike team con il loro ingresso sul rettilineo d'arrivo devono careggiare appunto sulla distanza di 5 tornate eccoci qua appunto con le ragazze con silvia folloni della stm la campionessa italiana elite woman e con francesca robazzolo della cicli stefanelli axi oggi nono trofeo san fior memorial adriano lotte imprenditore di san fior amico e da sempre sostenitore della san fiorese era anche un socio di assi industria la sport san fiorese voleva ricordare la figura di questo amico adriano lotte e oggi con la categoria dei master ricordiamo adriano lotte e il suo sostegno che ha sempre portato la san fiorese scomparso nel 2020 un amico dicevamo che oggi vogliamo ricordare con la prova riservata ai master nel nono trofeo di san fior una manifestazione che vede un vero percorso del ciclocross con 60 metri di dislivello un circuito veramente molto molto importante 2,6 chilometri un tracciato che possiamo benissimo separarlo in due perché c'è sì il tratto tecnico con contro pendenze scendere giù prendere in mano la bicicletta ma poi c'è anche questo bellissimo passaggio su le colline trevigiane siamo nella zona del valdobbiadene con con egliano che li praticamente ha una poco meno di una decina di chilometri in linea d'aria e quindi uno scenario anche dal prestigio eno gastronomico quello di san fiore intanto stiamo vedendo marco del missier eccolo qua il campione italiano di oste antica che ha preso già un bel vantaggio comincia appunto a prendere prendere sempre più vantaggio marco del missier intanto abbiamo concluso il primo giro come avete visto con il passaggio questa è la discesa appunto che porta nella zona tecnica per gli atleti e quindi andiamo a vedere la situazione con stefano gasparetto che in seconda posizione poi c'è antonio galeotta lanza della bonfatti racing team questa è la situazione intanto con simone gambarelli della guerciotti development per quanto riguarda invece la master fascia 2 vediamo se il lombardo graziano bonalda della stm al comando ma qui c'è lo show del campione italiano del numero dorsale 121 nelle fasi centrali di gara del missier affronta adesso il tratto con gli olivi e vedete appunto lo dicevamo bisogna saper scendere dalla bici e spingerla di forza qui anche le ragazze per dare un occhio che cosa sta avvenendo nella corsa femminile con silvia folloni della stm la campionessa italiana di ostia antica che con la rassegna tricolore che come dicevamo si è sdoppiata master e agonisti ostia antica due settimane fa e oggi appunto gareggeranno dopo queste gare che stiamo vedendo i ragazzi che adesso stiamo vedendo proprio inquadrati della san fiorese nel team a rele che sarà valevole del titolo italiano staremo a vedere una bella prova anche quella che ci aspetta tra pochissimo ma concentriamoci su quella in questo momento che viene inquadrata con il campione italiano che ha già pensate un minuto e trenta di vantaggio su gasparetto della t team per quanto riguarda la seconda posizione e segnalato antonio galeotta lanza per quanto riguarda la bonfatti racing team questa è la situazione eccoci qua con gasparetto a un minuto e trenta lo dicevamo un poc'anzi della t team la sua formazione che va al transito in questo momento in confronti di marco del missier della bandiziolle cycling team e antonio galeotta lanza bonfatti racing team eccoci quindi intanto con il portacolori della stm graziano bonalda fascia 2 che l'abbiamo visto con la maglia azzurrina e rosa per quanto riguarda poi vediamo che ci sono i portacolori della guarciotti development che sono andati al passaggio con antonio durante diego mariani invece per la ventana ciclismo nella master di fascia 3 quindi intanto stiamo vedendo appunto sempre il su e giù quello degli olivi perché siamo entrati nelle fasi conclusive di gara con marco del missier quindi vediamo gli ostacoli scende giù dalla bicicletta oramai siamo lanciati nel finale con marco del missier pochi pochi istanti appunto e andremo con il suo arrivo marco del missier bandiziolle cycling team formazione ferulana poi proprio marco sarà impegnato tra pochissimi istanti non appena fravarcato questo arrivo che lo vede vincitore e infatti va a applaudire insieme ai suoi tifosi va a prendersi la vittoria e adesso giù dalla bicicletta perché la bandiziolle sta per gareggiare nel team relais arriva il primo della master fascia 2 quindi con graziano bonalda stm associazione sportiva dilettantistica che si prende la vittoria per quanto riguarda la master di fascia 3 con numero dorsale 182 bonfatti racing team antonio durante eccoci qua quindi con marco del missier e stefano casparetto antonio in galleotta lanza nelle prime tre apposizioni bonalda per in l'oda stm la roccia team fascia 2 arriva silvia folloni che vince davanti a francesca rovazzolo master woman la campionessa italiana va a prendersi questa vittoria nella fascia 3 come dicevamo appunto antonio durante diego mariani della ventana ciclismo e antonio mullas della nazionale roma axi questo per quanto riguarda il podio della master fascia 3 ed è quindi con missier e il podio si va a stilare oramai è tutto pronto quindi con le categorie giovanili con i ragazzi e le ragazze in una staffetta mista nel team relee fasi preparatorie del team relee saranno 108 atleti a prendere il via 27 società differenti dove ovviamente qui la san fiorese la squadra organizzatrice di questo evento punta al tricolore ma attenzione alla mosole alla formazione della friulana della james bike in buia alla war shot development e anche a delle realtà emergenti come quelle del sud come la bike ruvo qui intanto stiamo vedendo i ragazzi che si stanno preparando scalpitano perché questa è una staffetta mista vedremo dei cambi ci sarà il cambio praticamente a ogni tornata sono quattro concorrenti e parte la prima linea quindi dei team partiti in questo momento con il team relee valevole di campionato italiano che caduta dietro nelle retrovie vediamo appunto dietro che si sono andati a toccare mentre davanti c'è la lotta per andare a prendere il per primi la collina di castello roganzuolo eccoci qua intanto abbiamo visto san fiorese al comando dicevamo quattro componenti del team quattro giri perché ognuno dei ragazzi e ragazze completerà un giro e poi si daranno il cambio nella zona nella zona dei team eccoci intanto con il vantaggio che in questa prima parte lo comincia a guadagnare l'atleta di casa il porta colori della sport san fiorese eccolo l'ha inquadrato che adesso sta facendo questi tornanti giù in discesa parliamo di riccardo darios eccoci qua quindi stiamo già arrivando e attraversiamo questo caseggiato contadino qui ognuno del paese ha dato un piccolo contributo per far sì che i campionati italiani si potessero svolgere nella più grande maniera migliore possibile e intanto dicevamo con darios che a questo momento ha attraversato la zona dei box stiamo per arrivare in zona del cambio quindi vediamo l'affronto di questo dosso di questo scusate di questo sì non posso non dosso e con riccardo darios che l'ha fruttato in bici molti invece sono scesi in questo in questa fase siamo nel tratto più scorrevole del tracciato di gara intorno ai vitigni delle colline trevigiane sempre con riccardo darios ragazzo molto interessante che poi domani nella giornata successiva vedremo e si attende grande protagonista nella prova riservata la categoria lievi di secondo anno vediamo dietro un vantaggio veramente importante dall'altra parte arrivano adesso i primi inseguitori con riccardo darios che quindi sarà il primo ad arrivare in zona cambio il primo a dare il passamano alla propria alla propria o al proprio compagno staremo a vedere di chi si tratta intanto i ragazzi stanno facendo riscaldamento sono pronti li vedete sono lì allineati e sono con l'occhio lo sguardo puntato all'indietro pronti a vedere essere pimpanti per appena arrivi il compagno e vedete il tocco con la mano si parte e ha toccato tocchette quindi riccardo darios che tocca tocchette la san fierese che subito vuole partire molto molto forte con le sue due punte diciamo così e infatti guardate guardate che vantaggio che ha preso e guardate con che sprint tocchette adesso è partito vedete arrivano tutti quanti gli altri i ragazzi si toccano e per quanto riguarda la spalla e poi e poi si parte il passamano che continua nelle retrovie mentre la leadership in questo momento della prova è per tocchette che rappresenta la san fiorese la società di del presidente gastone martorel che è lì appunto visionare questa prova attenzione perché arriva anche fornelli portacolori della bike ruvo e tra le ragazze che sono presenti sanarini linda sanarini gruppo sportivo mosole attenzione arriva anche come un fulmine bosio da dietro la maglia gialla e quella della guerciotti di linda sanarini grande atleta su strada sei vittorie l'anno scorso ha partecipato alle olimpiadi giovanili giunta sesta nella prova quella in linea un atleta che ha vinto anche due prove due gare nel ciclocross quest'anno torniamo intanto con la testa della corsa e qui c'è il cambio tra tocchette e ilaria tambosco quindi arriva anche fornelli dietro vediamo che dà il cambio a francesco dell'olio attenzione anche a questo atleta una delle punte del bike ruvo dell'avis bike ruvo per quanto riguarda bosio tocca sofia guicciardaz attenzione che la guerciotti ha lasciato l'atleta più forte invece sul finale al contrario della san fiorese con agostinacchio è partita linda sanarini che ha dato il cambio invece anche al suo compagno di squadra se la giocano queste società appunto al momento ricordiamo una trentina che hanno preso il via vediamo quindi che c'è dall'olio che adesso sta guidando la gara è passata invece in seconda posizione la san fiorese con ilaria tambosco poi arriva sofia guicciardaz della formazione della guerciotti eccoci qua intanto con il portacolori del gruppo sportivo mosole si tratta di leonardo leonardo zanandrea e ora pronti con gli ultimi gli ultimi cambi c'è francesco dell'olio che arriva scende giù dalla bicicletta affronta il tratto con gli ostacoli è pronto a dare appunto il cambio con lui che adesso sta guidando la gara quindi il passaggio di mano con il compagna di squadra eccoci qua appunto intanto con ilaria tambosco della sport san fiorese vediamo appunto l'ultimo passaggio l'ultimo cambio che darà anche la sport san fiorese mentre è lì pronto lo abbiamo visto agostinacchio che sta per andare al passaggio con sofia guicciardaz eccola qua la ostana che dal cambio al compagno di squadra eccoci qua con martini invece che dal cambio a zanandrea per quanto riguarda il gruppo sportivo mosole e allora adesso è un ultimo giro tutto d'un fiato massimi massimi watt espressi in questa tornata di due chilometri e 600 metri con la sport san fiorese che vediamo chi entra per primo su retinione d'arrivo ed è la formazione della guerciotti con il plurinicitore di stagione mattia agostinacchio che va a prendere la medaglia d'oro per la guerciotti in seconda posizione arriva il portacolori della sport san fiorese medaglia di argento per pietro de onne quindi con de onne che ha chiuso per la sport san fiorese marco palludetti direttore sportivo che si va a complimentare la medaglia di bronzo quindi il gradino del podio è per il gruppo sportivo mosole con leonardo zanandrea che va a chiudere quindi per il mosole la prova in quarta posizione arriva invece il portacolori della formazione della bandiziole quindi quarta posizione per la formazione friulana fabbro fabbro invece per quanto riguarda la james white in buia è la quinta posizione il podio che si va a stilare con gli atleti di casa medagliati con la sport san fiorese in terza posizione dicevamo il gruppo sportivo mosole per questa seconda edizione del team relais per la staffetta mista la vincitrice finale è la formazione della guerciotti con mattia costinacchio che ha fatto il miglior giro di tutti da leonardo metalli è tutto l'inno nazionale italiano con i ragazzi del team relais l'appuntamento passa alle prossime gare mattia costinacchio la guerciotti di velo mente la regione lombardia va a prendersi la medaglia d'oro nel team relais si sono contentissimo per questa cosa e ringrazio tutta la mia squadra tutto lo staff mio papà che fa l'allenatore della squadra e la san fiorese per aver creato questo bellissimo giro uno dei miei obiettivi è raggiungere il numero di maglie che ha vinto mio fratello nella staffetta anche singola che appena ha vinto uno e sono veramente contento per me e per tutta la mia squadra è stato uno spettacolo entusiasmante con un grandissimo pubblico con un ultimo giro nel quale sei diventato il protagonista perché la sfida san fiorese con la guerciotti si è decisa l'ultimo raccontaci quest'ultimo giro allora sono ripartito terzo dopo che soffia mi ha dato il cambio ero molto convinto di riuscirci e quando sapevo per finire il giro ho visto andando avanti ho detto devo farcela perché 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 sì perché sarebbe stata una soddisfazione grandissima e infatti ci sono riuscito una dedica della guerciotti la possiamo chiedere a te sì la questa vittoria di tutta la squadra tutta la mia famiglia tutti quelli che mi aiutano tutti quelli che mi hanno incidato massimo chirotto oggi san fiore e castello di roganzuolo beh sono trepitanti con il pubblico che ha gustato la prima prova del campionato italiano di ciclo cross il team relay una staffetta entusiasmante si entusiasmante perché si è conclusa all'ultimo giro ed è proprio questo il bello della staffetta perché c'è un gruppo di ragazzi di ragazzi ragazze che corrono per la squadra non a titolo individuale è stato veramente un bello spot oggi campionato italiani che il fiore all'occhiello per la federazione ciclistica italiana domani ci sarà ancora un altro giorno importantissimo chi si chiuderà un po la stagione agonistica se vogliamo poi ci sono le gare internazionali con i campionati del mondo direi che oggi giornata di sole tanto pubblico un percorso veramente tecnico che può insegnare ai nostri ragazzi e ragazze da qua si inizia per poi arrivare chissà professionisti specialisti del settore